Vittoria meritata per il Progreditor Marcianise che batte 2-0 il San Giorgio grazie ad un grande secondo tempo. L'orario inisuale all'inizio crea un po' di difficoltà ai ragazzi di Sorianiello che nei primi 45 minuti fanno fatica a carburare. Tutto più facile nella seconda parte di gara. I padroni di casa devono fare a meno degli squalificati Grillo e Desiderio mentre Napoli è recuperato dopo l'influenza. In avanti la fisicità di Paiuca con la fantasia di Rosi per scardinare la retroguardia napoletana. Prima emozione al sesto quando l'offredo blocca in aria un retropassaggio di un compagno, punizione in seconda e gran botta di Pepe respinto dall'estremo difensore. Al dodicesimo Rosi viene agganciato in aria ma per russo di nole e simulazione. Il match vive una fase interlocutoria con i biancazzurri che provano per vie esterne e gli ospiti votati a non prenderle. Batti e ribatti fino al quarantasettesimo quando l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La ripresa si apre con la sostituzione di Sacco per Danna. Il marcenise passa un più spregiudicato 4-3-3 che in fase offensiva si trasforma in 4-2-4 e gli effetti si vedono. Al nono sui sviluppi di un angolo Pandolfi stacca più in alto di tutti e sblocca il punteggio. San Giorgio colpito e affondato nel giro di due minuti perché Paiuca si inventa il gol del mese mettendo in ghiaccio il risultato. Palleggio al limite dell'aria e destro al volo che si infila sotto la traversa. Una prudezza che annichilisce gli avversari. Procreditor nuovamente pericoloso al minuto 18 con il neo entrato Sacco che fa tutto bene ma conclude sul fondo. Si affacciano i gialloneri dalle parti di Ciontoli con un insidioso piccolo malasfera e sul fondo. Gli ospiti le provano tutte ma la difesa di casa non si lascia sorprendere. Tre minuti di recupero e poi festa per i casertani che consolidano un posto a centro classifica. Gli ospiti le provano tutte ma la difesa di Ciontoli con un insidioso piccolo malasfera. Gli ospiti le provano tutte ma la difesa di Ciontoli con un insidioso piccolo malasfera. Gli ospiti le provano tutte ma la difesa di Ciontoli con un insidioso piccolo malasfera.